Si è presentato questa mattina alla stampa negli uffici del comando provinciale, neo capitano della compagnia di Catanzaro, Antonino Piccione, in servizio fino a qualche mese fa a Roma. Piccione, 34 anni, siciliano di nascita, prende il posto del capitano Marco Fragassi e arriva in Calabria dopo le esperienze al comando delle compagnie di Venezia e Roma-Eur. Davanti al comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro, il colonnello Ugo Cantoni e il comandante del reparto operativo, il tenente colonnello Alceo Greco, che hanno ricordato l'eccezionale lavoro svolto dal suo predecessore, Piccione considera questa esperienza importantissima e non ha negato la felicità nel poter tornare al sud da buon meridionalista. Ci sarà bisogno di qualche giorno per ambientarsi e per conoscere le dinamiche della città, ha commentato, ma posso già dire che io e i miei uomini metteremo il massimo impegno per garantire sicurezza alla cittadinanza. Ci impegneremo al massimo per garantire la massima sicurezza alla collettività e quindi perseguiremo tutte quelle azioni criminose che si dovessero commettere, spero poche per la verità.